Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. Finalmente buone notizie sul fronte Covid-19. In calo l'indice di RT nazionale che si stabilizza sullo 0,85. Intanto si preparano le prime riaperture per la prossima settimana. Continuano le lamentelle sul fronte ai vaccini. A Torre del Greco ancora molti ultraottantenni non vaccinati. Il presidente De Luca promette doppia dose per gli over 80 entro una settimana 10 giorni. Passiamo alla cronaca maxi operazione della Guardia di Finanza nel Napoletano. 108 le sanzioni anti-covid e non solo. Torniamo a Torre del Greco. Questa mattina le telecamere di TV City hanno raggiunto i titolari delle attività ristorative per raccogliere le opinioni e le proposte in vista della stagione estiva. Infine spazio allo sport con la Turris in piena emergenza Covid. Risultati positivi al tampone alcuni componenti dello staff e del gruppo squadra. Possibile rinvio del match contro la Cavese. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. In calo il valore dell'RT nazionale. Dopo i dati della scorsa settimana che ponevano l'indice sullo 0,92 questa settimana si scende sullo 0,85. È quanto appreso nel monitoraggio settimanale tra Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute. Continua però la pressione sulle terapie intensive e di reparti ospedalieri con un tasso di occupazione a livello nazionale al di sopra della soglia critica sia in terapia intensiva 39% rispetto alla soglia di allarme fissata al 30% che in area medica 41% contro il 40% della soglia critica che tuttavia per la prima settimana mostrano segnali di una lieve diminuzione. Lo evidenziano i dati del monitoraggio settimanale tra ISS e Ministero della Salute all'esame della cabina di regia tecnica. Intanto, per quanto riguarda le scuole superiori, il Presidente del Consiglio Mario Draghi è stato chiaro. In presenza al 100% a maggio in zona gialla ed arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel paese. Già attivati i tavoli prefettizi nelle varie città che stanno lavorando per organizzare il trasporto pubblico locale nei vari territori. Per quanto riguarda il settore della ristorazione, il protocollo dei governatori afferma consentito lo svolgimento sia del servizio del pranzo che della cena. Negli esercizi di ristorazione che prevedono posti a sedere non si consuma al banco dopo le 14. Nei locali al chiuso vanno rispettati due metri di distanza. All'aperto si riduce a un metro. In entrambi i casi va tenuta la mascherina quando non si è seduti. Nuove misure per la riapertura delle palestre, ma no allo sport da contatto fisico. Bisognerà, inoltre, regolamentare l'accesso agli attrezzi, delimitando le zone per garantire almeno un metro di distanza tra le persone che in quel momento non svolgono attività fisica e almeno due metri durante l'attività fisica. Nel settore cinema e spettacoli dal vivo, le misure si mantengono se integrate con tapponi all'ingresso, test negativi effettuati nell'ultime 48 ore e completamento della vaccinazione. Almeno un metro di distanza tra spettatori se indossano la mascherina e almeno due metri di distanza qualora le disposizioni prevedano di non indossarla. Completare la vaccinazione con doppia dose per i cittadini over 80 nel giro di una settimana 10 giorni. E' questo l'intento ufficializzato dall'unità di crisi della Regione Campania in una missiva mandata a tutti i direttori delle ASL e degli ospedali della Regione. Proprio il governatore Vincenzo De Luca ha parlato dell'esigenza primaria di preservare una categoria così a rischio mettendo in campo il massimo sforzo organizzativo, anche con la sospensione di altre attività. Una situazione davvero complicata visti i ritardi nell'arrivo delle dosi e il sottodimensionamento del personale sanitario. Propriatore del Greco continuano le lamentele. Ancora molti, i over 80 registrati sulla piattaforma regionale che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Attualmente in Campania sono stati vaccinati 196.621 ultraottantenni, di cui 136.726 hanno avuto anche la seconda dose e hanno concluso il loro percorso vaccinale. In Campania, secondo i dati del censimento Istat 2019, gli abitanti dagli 80 ai 100 e più anni sono 304.317, di cui 908 ultracentenari. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a controllo nel corso della settimana oltre 1870 tra persone e attività commerciali. 108 le sanzioni complessive, non solo anti-covid, ma anche per spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando di sigarette, contraffazione e pirateria audiovisiva. I controlli anti-covid hanno riguardato soprattutto Napoli-Città, ma anche l'intera area metropolitana e hanno portato alla contestazione di sanzioni a carico di 66 tra persone senza mascherina, in strada senza autocertificazione, senza validi motivi, fuori dal proprio comune di residenza o domicilio e di 7 attività commerciali. In particolare nel capoluogo, nel quartiere San Lorenzo, il secondo gruppo ha scoperto una fabbrica del falso sequestrando un opificio clandestino e più di 4.000 articoli tra borse Louis Vuitton e Gucci, contraffatte, accessori e prodotti semilavorati, denunciati tre responsabili. Nel quartiere San Carlo Arena, il secondo nucleo operativo metropolitano Napoli ha individuato un deposito con all'interno 4.100 borse contraffatte e 100 metri di tessuto Louis Vuitton e Gucci, nonché attestazioni e certificati di qualità e autenticità Fasulli, denunciato un 58enne per contraffazione e ricettazione. Nel quartiere Pendino, i baschi verdi del gruppo pronto impiego all'interno di un magazzino hanno sequestrato 10.200 locandine e 7.780 cd e dvd illecitamente riprodotti e privi del marchio SIAE, denunciando un 50enne per ricettazione e violazione al diritto d'autore. Si guarda la riapertura con la speranza che la campagna vaccinale possa accelerare il ritorno alla normalità. Questo è lo stato d'animo degli imprenditori della zona porto, provati dalle restrizioni anti-covid di questi mesi. Questa mattina le telecamere di TV City hanno raggiunto i titolari delle attività ristorative per raccogliere le opinioni e le proposte in vista della stagione estiva. Come si riparte dopo questo periodo così difficile? Si parla in queste settimane di riapertura e lo stesso De Luca aveva parlato delle vaccinazioni, di dare priorità alle classi economiche piuttosto che alle classi di età. È d'accordo con quello che dice il governatore? Sì, sono d'accordo sinceramente perché potrebbe essere per noi importante anche questa cosa qua, però come tutte le cose, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il problema è che comunque ci vorrà ancora molto tempo secondo le stime che ci stanno. I vaccini sono molto a rilento, attualmente stanno ancora vaccinando i settantenni, quindi finché daranno la libertà a noi attività passeranno secondo me ancora molti mesi. È necessario creare comunque qualcosa che ci possa aiutare anche in questa veste qua. Noi potremmo in tutto sommato poter, diciamo, recepire e far rispettare i protocolli, ma invece per strato tu vedi l'impossibile, allora il senso di ingiustizia sale di più e quindi percepisci tutto come una cosa ingiusta, sapendo che poi magari hai carico addosso le famiglie, i dipendenti. Oltre che la rabbia si sente in qualche modo anche abbandonato dallo Stato e dalle istituzioni. Il problema è che si affronta tutto come se fosse una crisi solo economica, cioè sanitaria, ma in realtà queste sono sfide nuove alle quali bisogna rispondere con delle cose nuove, magari con creatività, con coraggio. In realtà qua si chiede solo grandissimi sacrifici agli imprenditori che tutto sommato non hanno neanche riconosciuto il diritto a poter lavorare. Cosa si aspetta dai prossimi mesi? Non si vedono spiraglie perché non c'è certezza, noi non possiamo programmare nulla. Si sta dicendo delle isole covid free, ma rischieremo di essere trattati come cittadini di serie B in questo caso, perché non ci sono località di serie A da considerare covid free. Qua ci sono tutte le attività, tutto il tessuto economico da riprendere. Le persone hanno paura, hanno paura di uscire a prendersi un caffè, come è giusto che sia così, però attendiamo i vaccini, attendiamo questo. Si deve andare avanti un po' con i vaccini, perché siamo proprio quasi fermi, è lento, è più lento, è più noi siamo sempre così. Le restrizioni sono troppo stupide per me, perché non è possibile che coronavirus c'è in un bar o in un ristorante, mentre per la strada poi la gente può stare. Penso che la gente è anche stanca. I bar devono lavorare, perché comunque cassa integrazioni che non arrivano. Nessuno se ne frega di niente, pescatori che non possono uscire a lavorare perché se no beccano le multe in mezzo al mare, la finanza dappertutto. Quindi siamo un pochino tutti messi male, perché se non lavorano loro, non lavoriamo noi, se i soldi non girano, nessuno lavora. Quali sono le sue proposte o se vuole lanciare un appello alle istituzioni? Proposte, le proposte bene o male le dovrebbero fare loro al governo, chi guadagna e sta lì apposta a fare il proprio lavoro. Si devono muovere con i vaccini, devono fare altre cose per dare un pochino di sicurezza alla gente, non chiudere bar e ristoranti, perché è inutile. Cosa si aspetta dai prossimi mesi? È fiduciosa? Sì, abbastanza fiduciosa, non bisogna mollare mai, specialmente, ripeto, per noi che abbiamo queste attività, che siamo qui da anni e anni, ci aspettiamo in una grande ripresa per tutti. Sono stati mesi difficili e dalle nostre istituzioni, soprattutto l'attività comunale torrese, è stata quasi assolutamente assente. Noi abbiamo cercato di affrontare questi periodi reinventandoci Spero che ci facciano riaprire al pubblico, perché altrimenti è una scommessa rimanere aperti. Ormai sono più di 13 mesi che abbiamo avuto aperture alternate, ma non ci danno la possibilità di mantenere così a lungo delle strutture chiuse. Quali sono le iniziative a questo punto per agevolare la ripartenza? Allora, innanzitutto come associazione ASCOM, insieme all'associazione Sviluppo Area Porto, abbiamo fatto una richiesta ufficiale all'ASL per aprire un hub dedicato alle vaccinazioni del personale delle attività produttive. Sostanzialmente sono ottimista e spero e anche nella collaborazione, ripeto, dell'amministrazione locale affinché faccia iniziative di tipo chiaramente culturale, musicale e quant'altro per attirare l'attenzione dei ospiti turisti che possono essere turisti di prossimità, ma anche turisti stranieri. Possibile rinvio per Cavese Turris. Il Covid infatti sta falcidiando la squadra di Torre del Greco, che in questi giorni ha registrato diversi casi di positività tra lo staff ed il gruppo squadra. La società corallina potrebbe a questo punto giocarsi il bonus Covid, previsto dal regolamento con più di 4 positivi all'interno del gruppo calciatori. Nel caso in cui venisse accordato il posticipo, la data di recupero possibile potrebbe essere quella del 28 aprile. Match che potrebbe mettere in cassaforte la salvezza, obiettivo che ad inizio stagione sembrava alla portata, ma che si è complicato nel girone di ritorno. Ma il cambio di guida tecnica sembrerebbe aver sortito gli effetti sperati, con i corallini che ad oggi sono padroni del proprio destino. In attesa che la salvezza possa avere la certezza aritmetica, la società corallina inizia a guardare quella che sarà la prossima stagione. È di questi giorni l'annuncio del rinnovo per un'ulteriore stagione del centrocampista Daniele Franco. Il classe 94 era in scadenza, ma il nuovo accordo permetterà alla Turris di poter contare su un calciatore rivelatosi importante. «Sono felice di proseguire il rapporto con una società come la Turris», ha dichiarato entusiasta Franco, che ha sempre creduto in me e mi ha dato in questa stagione l'opportunità di confrontarmi con una categoria importante, in un girone veramente di ferro. Girone di ferro che la Turris spera di poter rigiocare anche la prossima stagione. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. Grazie e buon weekend! Grazie per la visione! Grazie!